La data del primo febbraio non segna solo l'inizio del mese ma anche un nuovo percorso con un'ulteriore stretta anti-covid. Da ieri per andare all'ufficio postale o in banca per compiere qualsiasi operazione o semplicemente andare dal tabaccaio non si entra più in maniera libera ma occorre esibire il green pass. Sono cambiate infatti le regole sul possesso del green pass che è diventato obbligatorio ovunque eccetto che per l'accesso ai servizi essenziali si potrà continuare ad andare al supermercato senza certificazione verde e comprare qualunque cosa non solo beni di prima necessità. Si potrà andare in farmacia dall'ottico e nei negozi di articoli medicali ed ortopedici nei supermercati e nei mercati rionali liberamente così come resta consentito anche l'accesso alle strutture sanitarie e veterinarie e negli uffici giudiziari e delle forze di polizia. Senza green pass si potrà infine andare dal benzinaio e nei negozi di combustibili per il riscaldamento e di animali. Da ieri sono in vigore le multe con sanzioni da 100 euro per tutti gli over 50 che ancora non sono vaccinati. In pratica aspetta ai titolari degli esercizi far osservare il rispetto delle prescrizioni attraverso lo svolgimento di controlli a campione. Da oggi in poi prima di uscire di casa bisogna assicurarsi di avere con sé non solo la mascherina ma anche il green pass sul cellulare o cartaceo cittadini nella maggior parte pronti a sottoporsi ai controlli senza alcuna difficoltà.